è evidente che poter lavorare con la fondazione milan che quello che rappresenta il milan è un' occasione unica per i ragazzi è un'occasione di anche questa di dimostrare un percorso serio fatto per loro ma da una realtà come quella del milan così conosciuta così nota così importante quindi è un valore evidentemente aggiunto che dà ancora più peso alla serietà di questa di questo impegno che si sono presi questa qui è un'occasione bellissima che capita soltanto una volta nella vita sono molto contento che vado a giocare calcio a milan il sport aiuta e stare con gli altri ragazzi bene oggi ho trovato questi ragazzi che li sta seguendo la fondazione milan ho visto che loro sono veramente contenti di questo nuovo progetto che la fondazione sta facendo e mi dicono che sono stati dei cambiamenti nella loro vita per quello complimenti a fondazione milan e tutti quelli che possono aiutarci in questo momento a cambiare e a sostenere dei dei sogni delle speranze diverse sono benvenuti grazie